Siamo a 10 miglia dalla costa delle Marche e quella che vedete qui accanto a me è una delle tantissime piattaforme completamente spente anche in questa zona del mar Adriatico. In Italia ci sono 752 pozzi di estrazione del gas completamente inattivi proprio così di 1298 punti di estrazione 752 sono fermi. La scorsa settimana vi avevamo mostrato le piattaforme in Romagna e nella laguna di Venezia. Questa volta siamo scesi più a sud e davanti alle Marche e all'Abruzzo la situazione è sempre la stessa. Anche qui l'estrazione del gas è un lontano ricordo ma quello che vi stiamo per mostrare invece resterà impresso e come. Vedete questa piattaforma che abbiamo raggiunto davanti a San Benedetto del Tronto? Si chiama Fabrizia e incrociando i dati presenti sul sito del Ministero della Transizione Ecologica abbiamo scoperto che qui sotto come potete leggere c'è un pozzo produttivo non erogante ovvero il gas ci sarebbe pronto per essere preso ma nessuno lo estrae. Ed è impensabile che in un paese come l'Italia possa accadere questo. E invece accade come e anche da molto tempo. Non ci sono attività da tre anni. Qui nel Mar Adriatico infatti negli ultimi anni il crollo dell'estrazione del gas è stato vertiginoso. Nel 2000 nel Mar Adriatico si estraevano 17 miliardi di metri cubi all'anno. Oggi solo 800 milioni cubi tradotto il 95% in meno. La peggiore condizione che noi potessimo mettere in atto. E questa è un'altra piattaforma del gas anche questa completamente spenta. Ma non è finita qui perché con la nostra barca ci siamo avvicinati anche alla piattaforma Davide. Eccola e guardate qui sotto i pozzi produttivi ma non eroganti sono ben quattro. I gas ce n'è ancora parecchio diciamo le stime sono circa 140 miliardi di metri cubi di gas ancora in Italia. E non fatichiamo a crederci visto che studiando la mappa del ministero quasi tutti i pozzi sono produttivi ma non eroganti. Come questo dove ci sono due pozzi fermi. O questa piattaforma dove i pozzi chiusi sono addirittura sempre. L'Italia ha un potenziale minerario importante. Incredibile pensare che nel 2021 abbiamo estratto dal nostro sottosuolo solo 3,34 miliardi di metri cubi quando abbiamo montagne di gas a disposizione. Ma sentite quanto ne potremmo produrre in un anno se riattivassimo questi pozzi. Noi possiamo arrivare in un anno a 30 miliardi di metri cubi. Ovvero 10 volte in più di quanto produciamo oggi. E allora perché non corriamo a riattivare questi pozzi già pronti per di più produttivi e che in un momento come questo sarebbero vitali per tutto il sistema energetico nazionale. Perché non abbiamo il sostegno autorizzativo. Vi rendete conto? 30 miliardi di metri cubi di gas fermi perché nessuno ne autorizza l'estrazione. Per riaccendere quei pozzi a livello di tempistica, poche settimane, qualche mese. Ma parliamo di mesi. Parliamo assolutamente di mesi. E così preferiamo avere solo il 6% del gas di nostra produzione mentre il 94% lo facciamo arrivare dall'estero. Perché non andiamo a investire nel cercare il gas che c'è sottoterra. Per demagogia dei politici. Ci sono dei politici che si sono fatti eleggere con i no. Senza contare che prendere il nostro gas ci costerebbe solo 5 centesimi al metro cubo ma invece ne spendiamo 70 per prenderlo dalla Russia, dai paesi del nord, dalla Libia e Algeria. Con i rischi adesso che aumentano di ora in ora. Se Putin chiude i rubinetti qui da noi che succede? Abbiamo la fortuna che andiamo verso l'estate perché altrimenti rimarremmo, io sono convinto che rimarremmo senza riscaldamento perlomeno. Tutto questo sapendo che i nostri pozzi sono pieni di gas e non solo nell'Adriatico. In Sicilia infatti ce ne sono due produttivi ma fermi da anni. Si chiamano Cassiopea e Argo e da soli potrebbero produrre 10 miliardi di metri cubi all'anno.